Un incidente in zona industriale a Schio stamane ha avuto per protagonista una pensionata e il guidatore di un quad ad avere la peggio, quest'ultimo portato all'ospedale di Sant'Orso in codice giallo, lo schianto in Viale dell'Industria alle 9.40 di stamane, venerdì, PG pensionata, 82 anni, lizzane alla guida di una Toyota, Ico, stava percorrendo Viale dell'Industria a direzione Schio. Poco prima dell'intersezione, con via Molise di fronte all while west, si è fermata sul lato destro della strada, poi ha effettuato un'inversione di marcia, proprio mentre da dietro sopraggiungeva un quad guidato da un ragazzo di Rozzo di 25 anni. Questo non è riuscito ad evitare l'auto in manovra schiantandosi sulla sua fiancata. In mediato l'intervento del 118, il guidatore del quad è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso a causa dei traumi riportati, mentre una squadra dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza l'area. I rilievi dell'incidente e la regolazione del traffico sono stati eseguiti da due pattuglie della polizia locale Alto Vicentino Schio.